Chi è che saltella tra le minfee di Salit? Ehi, ma è Findu! La rana allegra e vivace! È sempre di buon umore e non lascia mai che niente e nessuno gli rovini la giornata. Passa il tempo giocando a pallavolo con i suoi amici e quando le sue forze si esauriscono, corre a mangiarsi un bel hamburger fatto di insetti. Il suo preferito e il migliore di tutto il muva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS